Io ho una piccola azienda di restauro e la sovrintendenza mi deve 160.000 euro da un anno. Sapete come pago le mie collaboratrici? Con la pensione di mia nonna. Claudia, era tua nonna, dice che sta per morire. Tu devi continuare a prendere la pensione di tua nonna. Non si può. Eh, si può invece. Distesa non ci sta. Solo per pochi mesi, nonna. No, signore! Guardia di finanza, lei è in arresto. Ma sto maresciallo non ce l'ha una vita. Quello è un romantico, vuole l'amore. Claudia Maria Lusi. Ci sarebbe una piccola stranezza sulla pensione della nonna. A cosa devo il piacere? Una piccola ispezione fiscale. Cosa stai facendo? Controllo. No! No, no, non è un indagine. Mi piace. Mi sta pure corteggiando. Scontrino. Chi è? Oh! Mi hai toccato una tetta. Sì, mi sembrava un gesto coerente col contesto, no? Cioè, io faccio tutte le categorie di youporn e questo si innamora con mezzo paccio? Cosa ho fatto di male? Mi ha sorgelato tua nonna, tesoro. E tu? Qualche cadavere nascosto? Sì. Cadavere? Non sai mai dove metterli. Bisogna scongelare. Ma noi l'abbiamo rimessa in freezer. La platessa. La vecchia non c'è più! Ragazze, può entrare un maresciallo della finanza? Sì! Salve! Ma dai, la nonnina. Signora, com'è andata, Chianciano?